Abbiamo detto in cronaca che fino a quando ha avuto benzina Craia al centrocampo del Pescara è stato intenso e non ha permesso a Latina di essere pericoloso. Sarà un caso che esce Craia e poi cambia tutto? No, su questo dato che hai appena detto non mi sento di dire nulla io. C'è da analizzare secondo me altre cose. Quali? Non lo so, adesso a mente calda non so dirti qual è il problema. Ma siamo tutti molto incazzati, molto delusi da questo pareggio perché la partita stava andando in un certo modo il primo tempo, poi il secondo è scivolata via tra le nostre mani. Quindi ecco, a reazione a caldo non so bene dove porre rimedio, vedremo in settimana. Partiamo dallo 0-0 quando il Pescara l'ha sbloccata con un episodio, abbiamo detto tutti dubbio, non so se tu hai visto qualcosa da vicino lì sul rigore? No, al video non l'ho ancora rivisto sinceramente, lì dal campo siamo rimasti tutti un po' sorpresi, adesso lo rivedrò magari dopo. Poi però un tuo cross per De Zogus, assist capolavoro Mora 2-0 e la partita sembrava indirizzata come volevate. Sì, quella è stata una bella azione perché l'abbiamo costruita bene dal basso e io ho messo la palla in mezzo, De Zogus ha fatto un grande stop e Mora ha concluso benissimo. Poi nel secondo tempo, fino all'azione del rigore, è vero che il Latina con Margiotta e poi con Di Livio aveva cambiato un po' passo, però l'area di rigore di Plizzari era rimasta sostanzialmente inviolata. Dal rigore, quei cinque minuti successivi meritano riflessione. Sì, come hai detto te l'analisi è questa della partita, però è tutto il secondo tempo che dobbiamo analizzare, perché una squadra come la nostra non può cambiare volto così velocemente in una partita di 90 minuti, quindi secondo me ci dovremmo soffermare più su quello.